Si aprono le gabbie, partiti i cavalli della quarta corsa. Subito la coppia di scuderia in evidenza con Camurria la favorita in vantaggio nei confronti di Henry Dancer che dall'esterno tende ad attendere gli eventi più che altro con il debuttante Killer Mamba che invece la prende in maniera più decisa l'iniziativa in quarta. La giuba rossa è quella di Angel Dada a precedere, intro d'acqua e poi a chiudere il gruppo Lady O. Cavalli che sono già a tre quarti della piegata con in vantaggio Camurria nei confronti di Killer Mamba. In terza posizione troviamo Henry Dancer con all'interno Angel Dada, ancora intro d'acqua e Lady O a completare il quadro. Siamo già addirittura d'arrivo con Camurria in vantaggio nei confronti di Killer Mamba, il debuttante che si fa subito sotto minaccioso all'interno c'è Angel Dada, intro d'acqua che cerca di venire avanti con Henry Dancer che invece è rimasto un pochino più nelle retrovie. Gli ultimi 400 metri da percorre in leggero vantaggio c'è a questo punto Killer Mamba, il debuttante nei confronti di Angel Dada. Si mette sulle gambe Henry Dancer con Killer Mamba che è passato deciso in vantaggio. Si mette sulle gambe Henry Dancer ma Killer Mamba ha preso il tempo a tutti, il debuttante che viene a vincere senza nemmeno essere toccato con la frusta. bella impressione per numero 5 dello schieramento che vince all'esordio. Quota di 9 sul campo, 6 e 37 al tot, Samuele Diana in selle, il training è quello di Agostino Afei, i colori sono quelli da Blue Castle, vince dunque numero 5 dello schieramento nei confronti di Henry Dancer e per il terzo posto Angel Dada non arrivo assolutamente a sorpresa. 5-3-1, vince dunque al debutto il figlio di Fascinating Rock e va in archivio così la quarta corsa di quest'oggi. Dalla nostra postazione è tutto. Dalla nostra postazione è tutto.